Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 5 km di coda per un incidente adesso risolto al km 333 tra Arezzo e Incisareggello. Sempre verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci in A11, code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!